Questa sera la GSM Forum, le vivi Berogà! Amico, Davide, che bello! Quanto, Davide, salita! Sopri con altri ragazzi, in seguito primo punto, Berogà! Sopri con altri ragazzi, in seguito primo punto! Sopri con altri ragazzi, in seguito primo punto! Sopri con altri ragazzi, in seguito primo punto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.